con la quinta pillola di avas media devo dire che questa volta stravolgo un po il modus operandi perché vi ricordo intanto che nell'ultima abbiamo affrontato i temi abbiamo cercato di capire tutto quello che è utile conoscere in tema di marketing sportivo e oggi parleremo di tre puntini alcuni indizi il primo è un argomento cult per la comunicazione contemporanea perché insomma in sera chiude tutto parla di vendite ma parla anche di comunicazione si intreccia praticamente a tutto il tema degli influencer dei social parla poi di esperienze ma anche di efficacia di piacere e di business in senso puro ma adesso presentandovi il mio interlocutore capirete subito che non ci sono dubbi giustamente parliamo grazie diciamo che è molto molto chiaro posso toglierla e perché questa mascherina ovviamente oggi parliamo di tutto ciò che è e commerce marketplace e in più questa mascherina diciamo che mi sta anche aiutando parecchio perché poi io sono in avas media da un anno e quindi sono entrato nella fase di lockdown da casa quindi mi permette di farmi riconoscere dei colleghi oggi che girano gli infici ed è comunque di diffondere il verbo e commerce marketplace all'interno di un'agenzia che appunto dall'anno scorso ho deciso di intraprendere questo percorso meraviglioso allora intanto prima di proseguire volevo presentarti come carica perché tu giustamente sei head of e commerce marketplace di avas media gruppa facciamo un punto quindi della situazione quali sono anche i trend più accreditati in questo ambito direi partiamo innanzitutto non vi annoierò con i numeri ma tre quattro numeri sono fondamentali per capire l'importanza dell'e-commerce a maggior ragione dopo un 2020 causa pandemia che ovviamente è stato segnante in positivo per il business del mondo e commerce e marketing venite online per darvi un'idea ci tengo sempre a sottolineare questo dato che è un cinquantotto per cento che corrisponde al tasso di crescita dell'e-commerce nel mondo eh del primo trimestre del duemila e uno del duemila e ventuno rispetto al primo trimestre del duemila e venti quindi cinquantotto per cento di crescita è un numero mostruoso rispetto a un diciassette per cento che si registrava appunto nel cuno del duemila e venti quindi a inizio pandemia dell'anno scorso per dare un altro dato molto importante l'Italia in questi numeri è al quarto posto per crescita a livello mondiale quest'anno Q1 20 21 con un settantotto per cento di crescita quindi di di approccio all'e-commerce da parte degli consumatori eh quando si parla di commerce si deve per forza per parlare anche di Amazon ovviamente la piattaforma per l'eccellenza ormai il vero motore di ricerca per chi compra per chi cerca un prodotto online quasi non si usa più Google si cerca direttamente su Amazon e quindi due numeri per Amazon che cresce a doppia cifra ormai da da anni dal duemila e diciotto per darvi un'idea cresce del venticinque trenta per cento anno su anno e l'anno scorso il nel nell'ultimo trimestre l'ultimo quarter 2020 quindi il quarto più importante storicamente per Amazon è cresciuto del quaranta per cento ultimo dato sempre in logica di trend capire anche le industrie che si stanno spingendo rispetto alle industrie che magari già erano eh eh su in questo in questo mercato parliamo del grocery online quindi tutto ciò che food spinto tantissimo dal lockdown dell'anno scorso ha portato i consumatori a conoscere questo canale e iniziare a comprare food online per darvi un'idea l'anno scorso quest'anno rispetto all'anno scorso sono cresciute del centotrenta per cento le ricerche di food di eh prodotti da acquistare alimentari online e il novanta per cento di acquisti in più rispetto al duemila e venti quindi potremmo star qua a parlare di numeri all'infinito eh mi fermo sui numeri e vi racconto giusto velocemente quattro cinque pillole di trend a cui stiamo andando incontro e che ci aspettano quest'anno e negli anni a venire ovviamente quando si parla di e-commerce a trecentosessanta gradi non si può non menzionare il social commerce quindi quando si parla di social commerce ovviamente tutto ciò che è facebook instagram tiktok ad esempio e che ci permette a questo punto anche come agenzia avas market e avas media di andare a collegare tutte le attività core di avas media in ottica a per fan e quindi eh digital marketing focalizzato sulla parte social con tutte le attività lower funnel quindi conversion di avas market orientata alle vendite per passare poi al trend come il voice commerce quindi tutto ciò che acquisti tramite i smart speaker amazon eco eh quindi con Alexa o i google home eh anche qui si stima che entro duemila e ventidue il cinquantacinque per cento dei possesso di smartphone comprerà almeno una volta tramite i speaker eh vocali eh mobile shopping con crescite ovviamente eh mostruose si stima entro la fine di quest'anno il settantatré per cento delle persone comprerà tramite mobile dispositivi mobili eh e poi i nuovi metodi di pagamento che si affrontano che ci aspettano nel mondo e-commerce come i buy now pay later sono realtà molto molto strutturate e forti servizi molto forti all'estero ma anche in Italia sono realtà come Scala Pay come Clarna come Pago Light di Compass che permettono ai consumatori di comprare eh un bene ma a breve anche di servizi come dei viaggi o dei voli nelle presentazioni hotel dilazionando il pagamento in tre quattro cinque mesi senza nessun tipo di tasso o commissione quindi questo giusto per riassumere velocemente che cosa ci aspetta. Ah insomma possiamo dire tutto rose e fiori? Allora tutto rose e fiori né nel senso che ovviamente le potenzialità è quello che ci aspetta è enorme è un mercato che va sicuramente approcciato e gestito e fortunatamente grazie a causa della pandemia dell'anno scorso moltissimi brand si sono accorti di di questo settore eh il contro è ovviamente un settore nuovo per moltissimi brand che quindi hanno necessità di supporto essere guidati perché non è semplice passare da un modello classico di vendita banalmente di vendita all'ingrosso quindi io brand vendo ai miei rivenditori al mio grossista eh con un in maniera molto molto veloce e un conto è gestire l'utente finale in maniera diretta quindi banalmente spiegare il pacchetto a casa occuparsi del customer care occuparsi di eventuali resi fatturazioni incasso e chi più ne ha più ne metta. Entriamo nel merito del vostro modus operandi del vostro posizionamento insomma come affrontate i progetti? Eh il nostro approccio l'idea di avas market che appunto è la divisione focalizzata sotto ciò che è marketplace e-commerce nata l'anno scorso eh metà dell'anno scorso a livello globale quindi avas market italy è stata la country pilota che è partita l'anno scorso ad oggi come avas global siamo già presenti in undici mercati nei mercati principali consideriamo che avas media è presente in centoquaranta mercati tant'è che l'anno prossimo abbiamo l'obiettivo di aprire altri quindici mercati in ehm per quanto riguarda la divisione avas market e l'obiettivo di avas market è stato quello di andare a chiudere un po' il cerchio di tutti i servizi che avas media offre i propri brand e i propri partner da anni da quando avas media esiste andando a quel punto a coprire e offrire anche la parte di gestione dalla mera consulenza strategica quindi al primo approccio strategico di quei brand che stanno oggi iniziando a pensare di toccare il mondo e-commerce fino ovviamente alla gestione day by day quotidiana operativa per conto di quei brand che magari hanno già un e-commerce o stanno iniziando a mettere un piedino anche nel mondo marketplace su piattaforme come amazon quindi ci poniamo come partner a 360 gradi dei nostri clienti e clienti appunto interessati a questo settore alla luce di tutto ciò no se tu fossi brand insomma siamo dei brand come riusciamo a cogliere tutte le opportunità che l'e-commerce può darci allora lì è importantissimo davvero come dicevo anche prima essere guidati avere un partner che fa questo di mestiere che conosce il mercato che gestisce e conosce questo mercato da anni proprio perché appunto si tratta di approcciare per quanto riguarda i brand a volte mercati completamente nuovi e senza nessun tipo di guida si rischia di andare a sbattere molto facilmente proprio perché facendo degli esempi molto banali alcuni clienti che magari fino all'anno scorso avevano già un sito proprietario di commerce ma lo gestivano tra virgolette nei ritagli di tempo perché poi il loro core business era l'ingrosso o il canale tradizionale con l'anno scorso si sono a causa del lockdown si sono accorti che appunto è un canale molto molto interessante e alcuni si sono trovati a dover gestire dei picchi di traffico sia in termini proprio di traffico di gente che andava sul loro sito a picchi di ordini non previsti e che a un certo punto li ha bloccati e li ha fatto capire che hanno necessità di partner specializzati per poter gestire tutta la filiera che ne dice di concludere concretizzando questa nostra chiacchierata in una vostra case beh se devo scegliere una case anche al riassunto di quello che ho detto sceglierei sicuramente uno dei nostri clienti che i gb foods con cui stiamo avviando un percorso di crescita verso l'e-commerce per conto di tre loro brand star sai che buone sogni d'oro loro con noi stanno andando ad approcciare il canale amazon gli stiamo supportando in tutto ciò che è content creation quindi a breve ci saranno i tre store dedicati del brand su amazon con ovviamente tutti i prodotti tutte le schede prodotto ottimizzate ed è il primo step il primo passo per andare a presentarsi al grande pubblico di amazon in ottica e commerce in ottica vendite per poi ovviamente seguirli ci auguriamo il più a lungo possibile in tutto quello che sono i next step quindi iniziare poi a concentrarci sulle vendite iniziare a concentrarci sulla parte di advertising quindi permettere a star di farsi riconoscere ai clienti amazon e così via quindi questo è solo il primo passettino che stiamo facendo con gb foods grazie roberto addeo noi ti salutiamo e diamo invece appuntamento a tutti i nostri ascoltatori con l'ultima pillola delle pillole di avas media gruppo sarà il 9 novembre e parleremo insieme a guido surci che è chief sports e intelligence officer di integrazione ossia di come tutte le competenze si integrano all'interno di questo gruppo ciao 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 ciao